E' uscita la kit E adesso partiranno tutti i meme Kit, Kat, Kit e Mort, Kit e Biv Se ne sapete altri scrivetelo nei commenti Vediamo chi sarà il più inventivo Vediamo cosa ne esce fuori Anche tipo Super Chinotto Ah no, quella è un'altra roba Comunque raga è uscita la nuova macchina Ma a proposito riuscite a fare questo Invece di così Uno che va in senso orario E l'altro anti-orario Ragazzi ci riuscite a farlo in senso anti-orario Tutta questa felicità è dovuta alla nuova macchina Appena uscita ragazzi Vabbè per me è nuova perché Gioco da poco a Rocket League Gli OG già ce l'avranno Raga costa solo 800 crediti 800 per tutto il bundle raga Mai visto un bundle del genere Quindi se siete dei collezionisti Inserite il codice Cazzo Giozzi Tutto attaccato e tutto minuscolo Come il Beghellus degli haters E mandatemi la foto su Instagram raga Perché così facendo io vi risponderò in direct Detto questo raga Pollicione in su E iscrivetevi al canale che manca pochissimo Sarà buona la macchina? Farà vomitare? Raga per 800 crediti Direi che è meglio del... Poh mia nonna Ho aperto lo shop e ci stavano le ruote a 700 Quindi detto questo vi lascio al video raga Buona visione E guardate cosa ho combinato Con questa nuova chicca A proposito Sapete che hitbox ha? Perché io non l'ho trovata da nessuna parte Scrivetemi nei commenti le hitbox della kit La... La dark knight No la knight rider La chiamano Però si chiama kit Detto questo vi lascio al video raga Ah ragazzi è uscita la knight rider Prima di andare Già lo sapete Già lo sapete Già lo sapete raga Supporta un creator Edz Jozzy Già lo sapete Poi abito estivo Questo già ce l'abbiamo Non so perché Ah questo è gratis Oddio la mia bacchetta La mattina Così mi sveglio No vabbè lo riprendiamo ecco Cappellino non è male Queste poi le prendiamo Voi Voi c'è Ve lo sentite raga Vi deve Vi deve entrare nell'aria Il support code Già lo sapete Andate qua Solo 800 Raga ma che cazzo dite? Così poco Minchia così poco raga 800 tutto questo Oh cazzo Quindi dico che a me sembra qualcosa là sopra 800 raga Si compra istantaneamente ragazzi Io che ho ricaricato il ventello Raga E quelli me la cacciano a 800 E si gode ragazzi Ah Sì signori Ovviamente giallo è inguardabile No raga Mi sta salendo un po' il vomitino Ma veramente lo sgottino mi sta salendo Sta striscia rossa Se può fa bianca No Se può fa bianca E mi sale veramente il vomitello Ragazzi Il rigurgitino mi sale Boh mettiamola così Almeno non si vede Così almeno qua è rossa E qua Boh Ok Onesta La punta Allora è stretta e lunga Mi pare la Begellus car Raga Già dall'aspetto Sembra non so che cosa Le ruote Non so per quale assurdo motivo Ce ne siano due Non so per quale assurdo motivo Una kit e l'altra kit Si chiama Anche questo a doppio Te lo danno Questo non lo metteremo mai La corona della regina Elisabetta Esplosioni goal Tutto a posto Qua ci mettiamo questo Non lo so ci mettiamo questo Il motore del kit a posto Andiamo a provare subito la macchina Raga No a prescindere da com'è Se siete dei collezionisti di auto 800 crediti Non sono niente Vediamo raga Che vi devo dire Qua Pare che arriva prima Cioè per quanto è lunga Sembra che arriva prima Sul pallone raga Per quanto Sembra che sto giocando con sto coso Col poggia polsi Cioè costa poco Costa Costa poco E' piccola E' lunga Cioè piccola ai lati Però Di dimensione bella E' bella golosa Ma che fa questo Ma che è Non ti senti bene E poi vabbè Da collezione Quindi state a posto Però Sembra che arriva prima Sul pallone raga Fortnite la richiesta Va sul tuo account principale Si sul mio account principale Va la richiesta su Fortnite Raga Allora Vero il momento Onesto I miei sub Hanno diritto Anche E dico Anche Alla richiesta D'amicizia Su Fortnite Quindi potete mandarmi La richiesta Anche lì Tra l'altro Ci sta un'altra cosa Raga Questa Questa macchina Segna solo di kickoff Sembra che ci arriva prima Stavo dicendo In più Oltre a tutti gli altri Vantaggi dell'essere abbonato E tu tra l'altro Tutti questi vantaggi Ce li hai gratis Grazie al tuo Twitch Prime Oltre agli Questo è stato un bel Intercettamento Potete entrare Anche Nel Clan Di Clash Royale Perché si ragazzi Ho aperto un clan Di Clash Royale Cioè Almeno stasera Lo vado ad aprire Quindi ho aperto Un clan Di Clash Royale E se volete Ci potete entrare dentro Ho sbagliato tutto Ha un buon recupero Ragazzi Mi sembra la La cosa Come si chiama Come si chiama Quella macchina Ha un buon recupero Come si chiama Quella macchina Quella piccola Quella piccola No La Takumi Ecco Ha un buon recupero Ragazzi La giocabilità È anche bella Non la sto Non sto facendo fatica A giocare Come potete notare Ha un buon recupero Sì Questo mi offre Questi palloni Proprio a dire Tira dritto Che fai bene Tira dritto Che fai bene Se non quitta Proviamo il record Se non quitta Proviamo il record Poi per 800 Crediti Io la prenderei 800 crediti È un affarone 800 crediti Non costa niente Che poi Non è che 10 metri Danno solo la macchina Ti danno proprio il bundle Ragazzi No Volevo fare un gol Tipo di tartaruga Non mi è uscito Ragazzi La tartaruga Quella che vorrei io Potrei L'avversario sbaglia Troppi Cioè mi lascia Troppi open net Ragazzi Quindi non riesco A capirla Non riesco a capirla Comunque La tiranno No Non la uso più A casa Ragazzi Come primo game Non è andata male Come macchina Ragazzi Come primo game È andata veramente Veramente figa Figa come macchina Riproviamola Ragazzi 800 crediti Per una macchina Del genere Io li spenderei Cioè Più che altro Anche per collezione Attenzione Attenzione Kit contro skyline Che vince A parte che questa Vince tutti i kickoff Sembra che ci arriva prima La palla Essendo lunga Guarda Pure lui ha fatto lo speed Boh È simile alla comoda Ni Ni ragazzi Ni Ha veramente Un buon recupero Cioè a differenza Della skyline Che può sembrare Come dire 14 Grazie Non segniamo A differenza Della skyline È pesante Come macchina Questa Ha un bel recupero Regà Sta roba Non la comprerai Nemmeno a 500 Ma infatti È a 800 Cioè regà Vi ricordo Che per 800 800 crediti Ragazzi Vi danno Un intero bundle È una macchina Che è comunque Rara Quindi state comprando Comunque una macchina rara Un'esclusiva Tipo Vedete regà Il fatto che Essendo lunga Essendo lunga A me piace Guardate sto tiro Questo tiro con la skyline Non lo facevo Perché col fatto che è lunga Puoi fare pure questi tiri così Che sono dei mini Dei mini jump Bello Ci piace regà Allora regà Guardate Nello shop Cioè ci stanno queste Che costano 700 Loro per 800 Ti danno Un intero bundle Regà Con questo Queste Le ruote Questo Il suono La targhetta Quest'altro Regà 800 800 crediti Non sono veramente Niente